Quando sono in cucina, io mi sento una regina, la ricetta dell'amore ti cucinerò col cuore. Ti cucina insieme a te, tu cucina insieme a me, le mani in pasto e un po' di fantasia. E' da tanto che ci sentivamo e allora che vi devo dire? Per oggi è fatta, per oggi abbiamo dato, per oggi abbiamo fatto anche gli occhi alla trucca. E che vi devo dire? Statemi bene, vi voglio dire buongiorno, condividete e grazie per i like. Una buona serata a tutti. Grazie a tutti.